Ecco come si costruisce la testa da ogni angolo. Disegna un cerchio e mettici un punto dentro. Questo è il punto in mezzo alle sopracciglia e ci indica la direzione in cui sta guardando la testa. Traccia una linea verticale che tocca questo punto. È la linea che dividi a metà la faccia. Prendi l'altezza della testa e dividila a metà. Ora dividi ciascuna metà in tre parti uguali. Compreso tra questa linea e questa linea, traccia un'ellisse. Lui rappresenta la parte laterale del cranio. La sua altezza è sempre uguale. Invece è più largo più la faccia è di profilo. È più stretto se la faccia è più frontale. Questa linea la tempia e delimita la fine del sopracciglio. Ora dividi l'ellisse a metà, in orizzontale e in verticale. La linea verticale è inclinata come questa. Mentre l'orizzontale è più inclinata più è estremo l'angolo in cui guardo. Allunga una linea dalla cima, dal mezzo e dal fondo dell'ellisse. Queste sono rispettivamente fronte, sopracciglia, base del naso. Qui in basso ci va l'orecchio. Disegnalo come un mezzo cuore. Ora allungati della stessa distanza in verticale e trovi il mento. Queste tre parti sono all'incirca uguali. Adesso disegna una linea per il mento. Collega sopracciglio e mento da una parte. Dall'altra invece allunga leggermente la verticale dell'ellisse e poi collega l'almento. Infine traccia una linea curva dal centro dell'ellisse fino al mento. Questa linea divide la parte frontale della faccia da quella laterale. Poi all'incirca a questa altezza ci trovi lo zigomo. Adesso cancella leggermente e aggiungi tutto il resto. Tranquillo farò un video anche per questo. Trovi il tutorial completo su YouTube.